Dopo essere arrivati con il bus a Plasencia, per andare in Honduras, recatevi al molo, in fondo alla strada principale. Prendete il battello che parte solo di venerdì alle 9.30 del mattino. Sedetevi in posizione centrale, onde evitare i numerosi sobbalzi. Il battello è assolutamente vietato a chi soffre il mal di mare. Dopo tre quarti d'ora, arrivate alla frontiera beliziana. Qui pagherete qualche dollaro e attenderete un bel po' di tempo per far sì che la dogana effettui le solite pratiche. Ancora tre ore di navigazione. Quando passerete sotto un ponte e vedrete il ristorante Delfino, siete in Honduras. Scendete e recatevi presso l'ufficio immigrazione dopo aver compilato l'apposito modulo e aver pagato qualche dollaro. Siete nella cittadina di Puerto Cortes. Buon divertimento!